Quando siamo arrivati qui un po' tutti, vedevamo la bellezza di questo luogo, ma ci siamo trovati anche di fronte un po' a quell'indugia, quello smarrimento che hai sempre di fronte a una bellezza così, e dici, cosa posso portare? Abbiamo visto questo magnifico colonnato e la prima cosa che abbiamo pensato è stata di andarlo a riscrivere in un modo nostro, quindi abbiamo creato questa controstruttura che si va ad agganciare alle colonne del cortile della Statale di Milano. Quindi guardare al passato, capirne la bellezza, capirne il valore, capire che non puoi rimanerne ancorato, capire che è qualcosa che devi muovere, come queste colonne con cui ti devi scontrare, che ti possono tornare indietro. Il nome dell'installazione è High Intensity Design Training e l'obiettivo è quello di presentare il design come qualcosa di molto più pratico, o qualcosa di molto più, proprio come un allenamento, no? Proprio un progetto fisico, cioè tutto viene coinvolto in quello che è il design. Lavorare a questo progetto è stato, a dir poco, stimolante e istruttivo. Proprio inserirsi nel contesto di allestitori, poi mandare i file interni, preparare le consegne e comunque l'emozione di sperimentare, di dire è quello che voglio fare nella vita, quindi facciamolo bene. Proprio inserirsi nel contesto di allestitori,